Bella a tutti ragazzi, ecco a voi il vostro LLG97, siamo qua con un altro video di AmonGaz. Stavolta riusciremo ad essere l'impostore? Io vi chiedo un mi piace qua sotto per supportarmi, di iscriverti al canale e di commentare qua sotto se avete qualsiasi richiesta. Buona visione! Allora cominciamo, non siamo l'impostore, cominciamo molto male, faremo le nostre missioni prima che gli impostori ci uccidano. Io non trovo mai una missione da fare. Rosso, vieni qua, aspettami, 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 qua non c'è nessuna missione. Ok, il rosso ha risolto la missione, penso, non sono sicuro eh. Allora guardiamo in telecamere, non succede assolutamente niente, non c'è nessuno, siamo tutti qua. Andiamo a cercare un'altra missione. Quanta gente in elettrica. Va bene, noi facciamo quella missione qua. E poi... Io aspetto sempre che qualcuno uccida qualcuno ma non sono stupidi, non lo fanno se c'è qualcuno. E un'altra volta l'addetto al casoglio. Hanno trovato un cadavere, il bianco. Io ragazzi schippo perché veramente non so chi votare. Eravamo tutti amucchiati prima e... Non è successo nulla. Allora, aspettiamo che l'arancio e il verde votino. Guardiamo se magari scrivono qualcosa. Il verde ha votato. L'arancione non scrive niente. Non vota, veloce! Veloce! Ok. Non ha votato alla fine. Comunque tre voti per il verde. Io non so quali siano le questioni, le motivazioni per quale abbiano votato il verde. Però ricordiamoci che tre persone hanno votato il verde. Allora adesso il verde è con noi. Ci allontaniamo perché ho paura. C'è una missione qua. Fusibilino. Ok, qua non c'è nessuna missione. Un bel niente. Il gasolio. Viva il gasolio, ragazzi! Ok. Hanno staccato la corrente in electrical. La sistemiamo noi. Luce fu. Ok. Andiamo a mettere il gasolio qua. E andiamo via. Ok. Qualcuno ha chiamato l'emergenza. Non è un buon segno. O è un buon segno se qualcuno ha visto qualcosa. Allora. Il rosa dice che il verde è salvo. Il giallo dice che è stato il rosa. Noi votiamo il rosa. Tutti hanno votato il rosa, poverino. Speriamo che sia lui che qualcuno abbia detto giusto. È stato eliminato. Andiamo. Ok. È possibile che sia lui uno dei due. Oppure che non sia lui. Quindi ce ne sono ancora due. Viva il gasolio. Sempre e comunque. Ok. Andiamo a rovesciare il gasolio qua. Questa puntata sono il gasoliere. L'addetto al gasolio. Allora. Il viola non è perché ha fatto la quest dell'allarme. E il verde l'ha ucciso. Eppure abbiamo perso. Ne facciamo subito un'altra ragazzi. Anche stavolta non siamo l'impostore. Correre, correre felice nel prato. Nel prato. È tutto acciaio però. Ok. Le quest. Ma le quest dove sono? Quali quest? Nessuna perché non ci sono. Allora. Qua c'è una quest. Tiriamo i cavi. Giallo col giallo. Non riesco. Il giallo con il giallo. Il viola col giallo. Viola. E hanno chiamato. L'assemblea. Allora noi scriviamo che il green è scritto grene. Perché io l'inglese non lo so. Ma è salvo. Ok. Qualcuno dice che è stato il bianco e il rosso chiede il perché. Il blu dice che è il ciano e io non ho capito. Prima c'è qualcosa. Non lo so. Guardiamo cosa ha scritto il nero. Purple, white, white. Il rosa chiede perché il viola ha scelto il bianco. Il bianco risponde io ero in admin. Io schippo perché non so assolutamente nulla. Ok. Troppi skip. Quindi nessuno verrà buttato fuori. Salto. Continuiamo questa partita. Vai. Ok. Non mi andava avanti il pitotino. Sempre cacciala quest. Questo video mi sa che lo chiamo cacciala quest perché non trovo le quest. Oh ce n'è. Ce n'è una qua. Mia. Allora il viola col viola. Il blu col blu. Il giallo col giallo. E il rosso col rosso. Ce l'ho fatta. Nessuno ha chiamato qualche assemblea strana. Qualcuno ha spento la luce. Qua nessuno paga le bollette. Allora siamo tutti ammucchiati qua. Ma la quest mi sa che l'ho risolta io. Però non sono sicuro. Questa è la quest più complessa. Quindi stiamo attenti. L'ultimo passaggio. Ok. Perfetto. Ok. Siamo in quattro chiusi dentro. E il blu è fuori che ci guarda. Interessante. Io scappo. Ok. Ma hanno finito di spegnere la luce. Scrivete qua sotto nei commenti. Pagate le bollette. Allora. Qua c'è una quest. Ok. Hanno trovato il viola morto. Il viola è morto. Ok. Allora. Io ho fatto quel numero lì di task. Io ho finito. Ders. Non so cosa voglio dire. Il bianco è sempre in admin. Ricordate che il bianco è due volte che scrive che è in admin. Ok. Iniziano già a votare. Non so cosa voglio dire raga. Io voto il bianco. E due volte che dice la stessa cosa è molto sospetto. Ok. Quasi tutti hanno votato il bianco che è una buona cosa. Il bianco viene eliminato. E... Ce n'è ancora una al massimo. Allora. Andiamo qua. Facciamo ancora queste task. Viola. Ciò allo. Perfetto. Scendi scendi. Non ci sono le queste. Qua c'è il rosa fermo. Se sto seguendo la freccia raga ma non capisco dove devo andare. Sempre in alto. Ok. Ancora. Oggi sono... Adesso sono diventato l'elettricista. Il rosso col rosso. Il viola col viola. Il giallo col giallo. Che bravo. È un giochino per bambini. So i colori. Allora. Qua c'è la task. Io faccio questa intanto. Ok. Lupo sanguigno a b-. A b-. Qua non c'è niente da fare. Qualc'è il rosso. Che mamma. Che bello. Ok. Hanno trovato il mio corpo. No. Sì. Il mio corpo. Ok. Qua vi velocizzo. Perché sono morto. Sono un fantasma. Cerco di fare le quest che mi mancano. Per arrivare in fondo. C'è il download. C'è l'upload. Qua sono tutti in telecamere. Sperando che succeda qualcosa. Ma niente. Qua c'è un fusibile. Sono tutti in telecamere. Non si capisce bene il perché. E intanto che faccio questa quest chiamano l'emergenza meeting. Ok. Il rosa dice che pensa che sia il ciano. Non ha senso. È morto il ciano. Allora. No non è vero. Non è morto. Raga. È ancora vivo. Pensavo fosse rimasto in vita il bianco. Ok. Due su tre. Penso che sia sufficiente. Per buttare fuori il ciano. Ok. Il ciano è stato buttato fuori. E abbiamo perso. Perché non era lui. Ok. Facciamo play again. Aspettiamo. Non siamo ancora gli impostori. Dio. Perché non siamo gli impostori mai? Ok ragazzi. Adesso siamo gli impostori. Ho fatto partite da tre. Perché non riuscivo a farmi diventare impostore. Quindi. Cerchiamo di giocarcela bene. Siamo in tre e tre. Ok. Mamma mia sei veloce. Chi è che ha scelto la velocità di questo gioco? Ah. Cioè ragazzi. Schiaccio il tasto. E va su di due metri. Ok. Non posso fare niente. E abbiamo vinto. A caso. Totalmente a caso. E anche per oggi è tutto ragazzi. Stavolta ce l'abbiamo fatta diventare impostori una volta. Ci è andata bene tra virgolette. Perché abbiamo vinto. Ma io non l'ho capito. E penso che neanche voi abbiate capito. Vi chiedo di commentare qua sotto. Se avete qualsiasi richiesta. Di iscrivervi al canale per supportarmi. E di lasciare un mi piace. Io vi saluto. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao.